buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati oggi andremo a parlare del maltempo sull'italia previsto per la giornata di domani quando appunto la perturbazione atlantica che in tuttora è nato sul nord italia con piogge molto intense tra piemonte veneto e ovest lombardia anche con scosse temporalesche appunto questa perturbazione nella giornata di domani tenderà a spostarsi verso verso est andando a colpire soprattutto il veneto il friuli il trentino e parte anche dalla slovenia infatti avremo piogge e temporali molto forti anche a carattere di multicelle e supercelle sul veneto se in specie sul veneto meridionale e sulle coste mentre al nord ovest tra piemonte e lombardia avremo cieli sereni o poco nuvolosi con ampie schierite in serata fatta eccezione solo per qualche residuo piovasco appunto su tale regione nella prima mattinata avremo venti che si disporranno dai quadranti occidentali mari da mossi anche a molto mossi soprattutto molto mosso il martirreno avremo temperature lieve flessione con minime di 7 14 gradi al nord 10 15 gradi al centro e 14 19 gradi al sud massime invece di 19 23 gradi al nord 18 24 gradi al centro fino a 20 27 gradi al sud però al sud in tardo pomeriggio bar in serata avremo un aumento delle nubi che favorirà qualche piovasco e qualche temporale molto debole